In un contenitore con il coperchio mettere il succo di melograno, il succo di lime e il succo di cocco Aggiungere i cubetti di ghiaccio Scecherare il tutto e servire in un bicchiere decorato con pezzi di mela o melograno Spero che questa video ricetta ti sia piaciuta, se provi a realizzarla lasciami un commento sotto oppure condividi la foto sui social con l'hashtag Anto Ricette Iscriviti al canale per un paio dei prossimi video Ciao!